Stai spazzata come stava, ti metti in ginocchio per vedere meglio, non è una cosa da ridere. Così, lo tenga così, dopo ci metteremo qualcosa. Via, porta, va! I registi fanno il capo, il controcappo, il totale con lui, quando hai fatto questo devi ancora cominciare. Si accomodi, si accomodi signore, come sta? Guarda in macchina. La rosina, la rosina di Verrucchio è la prima, è la prima a venire fuori dal mucchio. Mi hanno preso come sosia di Brad Davis. E io sono il sosia di Lucio Dalla. Siamo dalla mattina alla sera chiusi, tra noi creiamo un mondo a parte, è una felinopo. Sfene 33, 5 quinta.